Un saluto a tutti. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la rassegna di stampa dei bollettini delle comunità parrocchiali e dei periodici della provincia di Belluno. A fare un piccolo viaggio, questa puntata tra pensieri e parole, a cogliere spunti di interesse, sfoglieremo le pagine di Humilitas, Papa Luciani, il periodico informativo del Centro Papa Luciani di Colcumano, la voce di Lentiai, il periodico parrocchiale della comunità di Lentiai, e il Cadore, organo informativo culturale della magnifica comunità di Cadore. Iniziamo proprio con le pagine di Humilitas. Il tema non può essere quello fondamentale, centrale del numero di questa puntata, non può essere che la beatificazione di Papa Luciani. 4 settembre 2022, Giovanni Paolo I, Papa, d'ora in poi si è chiamato Beato. Queste sono le parole di Papa Francesco con le quali quel giorno ha dichiarato Beato proprio Albino Luciani. L'articolo centrale, l'articolo di fondo è firmato dal Vescovo della Diocesi di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni. Cogliamo alcune parti significative che danno a pensare, scrive il Vescovo Renato, iniziando il pellegrinaggio a Roma per la beatificazione di Giovanni Paolo, mi ero detto che la beatificazione appare essenzialmente come un dono. Giovanni Paolo I, dichiarato Beato, è un segno affidabile con cui Dio intende oggi parlare alla sua Chiesa, affinché in noi non prevalga quel buio che era trista. E poi si fa una domanda appena dopo. Che cosa il Signore vuole dirci donandoci questo nostro Beato, questo Figlio della terra di Belluno? A pagina successiva si coglie qualche risposta. Ci siamo dunque detti, continua il Vescovo, di non cercare a ogni costo aspetti eclatanti nella sua vita, cioè il miracolo sostanzialmente. Un santo non va visto sostanzialmente per i miracoli che ha fatto, ma per la testimonianza di vita e di fede che ha dato e che ancora rimane attuale. E invece, dice il Vescovo, lasciarci meravigliare dall'autenticità e dalla semplicità della testimonianza di Luciani. Proprio questo è il cuore della fede, essere testimoni anche oggi. E beati, i santi, sono primi testimoni della fede nel Vangelo in Gesù Cristo. E abbiamo riconosciuto, continua il Vescovo, che Albino Luciani rappresenta la familiarità del Vangelo. Il Vangelo entra nel cuore, il Vangelo entra nella vita di ognuno. E la familiarità del Vangelo è la familiarità della presenza di Gesù, proprio come la familiarità delle persone alle quali siamo legati, dei nostri affetti. E questo, in fondo, trasmette la beatificazione e la figura di Papa Luciani, di Giovanni Paolo I. E conclude l'articolo, scrivendo, usando l'espressione stessa del Beato Giovanni Paolo I, Papa Francesco ha ripresentato l'amore intramontabile di Dio, che il crocifisso narra e offre. Ecco, questo è il punto fondamentale, il cuore un po' del messaggio che si vuole trasmettere. Trasmettere e ripresentare l'amore intramontabile di Dio nella vita di ciascuno di noi. E questo Giovanni Paolo I l'ha fatto ogni giorno della sua vita. Vediamo anche due foto significative. La prima, il Vescovo Renato, che ringrazia il Papa per la beatificazione appena avvenuta, di Papa Luciani. E poi, alla processione offertoriale, due bambini di Canale d'Agordo portano al Papa i doni durante, appunto, la messa di beatificazione. Ritornando ancora sulla prima pagina, come per dire quasi a spalla, a sostegno dell'articolo del Vescovo, c'è l'articolo del direttore del Centro Papa Luciani, don Davide Fiocco, che parla di Giovanni Paolo I della beatificazione come un segno per la Chiesa. Solo tre spunti possiamo prendere. A un certo punto don Davide scrive, il 4 settembre è giunto alla meta un percorso iniziato parecchi anni fa, grazie all'intuizione e alla lungimiranza di Monsignor Vincenzo Savio, Vescovo dal 2001 al 2004. Poi l'articolo continua, una nota degna di interesse è la reliquia, relativa proprio a Papa Luciani. Simbolo di questa memoria riconoscente è stata la reliquia presentata nel corso della cerimonia di beatificazione. È uno scritto autografo di Luciani risalente al 1956 e si tratta dello schema di una riflessione sulle tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, che richiama il Magistero anche delle udienze generali del settembre 1978. Questo documento proviene dall'archivio privato Albino Luciani, che oggi è patrimonio della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I. Il reliquiario, nota ancora Don Davide, verrà custodito ed esposto nella Basilica Cattedrale di Belluno, nella quale Albino Luciani prestò il suo ministero dal 1943 al 1958. Questo è un po' il tema centrale di questo numero di humilitas. Anche qui degno di nota, più avanti a pagina 7, la felice coincidenza che è stata fatta notare, e che effettivamente è, del quarantesimo del centro del Papa Luciani di Colcumano, proprio con la beatificazione di Giovanni Paolo I. Vediamo nelle foto la Santa Messa celebrata dal Vescovo, il 14 giugno 2022, e alcuni momenti appunto di inaugurazione, di celebrazione di questo quarantesimo. Nell'articolo possiamo leggere che erano presenti quasi tutti i direttori che si sono succeduti alla guida dell'opera, il sindaco di Santa Giustina, Ivan Minelle, familiari dell'ingegnere Minella, che è stato progettista e fine restauratore del centro. Una nota alla moglie e ai figli del progettista è stato chiesto di togliere il velo della targa che ricorderà appunto l'ingegnere Mirco Giuseppe Minella, che in questa struttura fu appassionato progettista e fine restauratore. Il quarantesimo anniversario dell'apertura del centro cade proprio nell'anno della beatificazione di Giovanni Paolo I. Ecco, questo è sostanzialmente quello che possiamo raccogliere dalle pagine di Humilitas in questo numero. Poi il numero continua con altri articoli contenuti di interesse che possono essere sfogliati e letti. La voce di Lentiai, il periodico della comunità parrocchiale di Lentiai appunto, guidata da Don Luca Martorell. L'articolo di fondo è interessante, è quasi un po' un controcanto, se vogliamo dire, con l'articolo della puntata precedente della squilla di Mel, nella quale articolo il parroco affrontava il tema della fede, della trasmissione della fede, soprattutto pensando al sacramento del battesimo richiesto dalle famiglie, soprattutto da quelle giovani ovviamente. Anche qui l'articolo di fondo di Don Luca Martorell è dedicato al tema della fede, alla riscoperta, la fede come sorpresa e avventura. Leggiamo alcune parti che sono interessanti. Da una stagione all'altra, scrive Don Luca, sui sentieri di montagna ti puoi disorientare. Alberi di velti, frane, smottamenti, alluvioni, colate di detriti modificano il percorso che conoscevi. Da una stagione all'altra della vita, quello che sembrava una convinta sicurezza è rimesso in discussione e ti chiede di rimetterti in gioco. E dice che così sono anche i sentieri della fede. Se pensi che la vita di fede sia una serie di comportamenti imparati una volta per sempre, che la fede sia uno stare in pace con Dio che finalmente la pensa come noi, prima o poi sarai disorientato dagli scossoni ed imprevisti. Il tempo di avvento e di Natale aiuta a rimetterci sempre in gioco nell'avventura della vita. Se alziamo lo sguardo verso il soffitto della nostra chiesa arcipretale, qui fa riferimento proprio alla chiesa parrocchiale, osserviamo che Cesare Veccellio ha raffigurato la scena della Natività mettendo in evidenza due uomini, uno ben vestito di cui si intravede il volto e l'altro di schiena. È interessante perché è proprio la foto di copertina del bollettino di questo numero. Quei due pastori adoranti rappresentano ciascuno di noi. Scrive ancora Don Luca, a volte l'animo è lieto, ben disposto ad accogliere la presenza di Dio in modo sereno e ordinato, come il pastore ben vestito. Altre volte ci presentiamo a lui con l'animo trasantato, come appare l'uomo di spalle. Ecco, la vita del credente è un'avventura, è un cammino esposto a rischio, alle sorprese, anche positive però. La vita di fede è un'attesa per noi credenti, continua Don Luca. È la disposizione dell'animo a essere pronti, a lasciare riempire il vuoto, a farsi stupire ad ogni attimo, a farsi incontrare dal Signore. E se anche tu scegli di metterti in cammino come i due pastori del dipinto, sarai avvolto dallo stupore della promessa di Dio, che sempre si fa trovare. Non ti preoccupare di come sei. Dio non ti giudica per come appari o per quante volte entri in chiesa. Lui, Dio, guarda il cuore e comprende i limiti e le fatiche e conosce i desideri profondi. Questo è l'articolo di fondo che decisamente invita a pensare a se stessi, anche in vista della festa del Natale, che sarà tra pochi giorni. Le pagine proseguono con l'anagrafe parocchiale, battesimi, matrimoni celebrati. Un interessante spunto viene dal dibattito che c'è stato all'interno del Consiglio Pastorale sull'oratorio. Il nuovo Consiglio Pastorale si sta prendendo a cuore l'uso e la gestione dell'oratorio. Come usare l'oratorio dando sicurezza ai ragazzi? Il parroco esprime il desiderio che l'oratorio venga considerato come luogo di aggregazione, anche per gli adulti e le famiglie. Già è messo a disposizione per feste e compleanni, ma spinge affinché sia richiesto per altre occasioni spontanee di gruppi e di famiglie. Ecco, questo è quanto possiamo cogliere dal bollettino di lentiai di questo numero. Ecco, l'ultima cosa degna di nota il nuovo riscaldamento in chiesa che va a completare l'ampio progetto di riqualificazione della chiesa arcipretale. Sicuramente la soluzione utilizzata, che è un riscaldamento a pavimento, permette anche il preservare dall'usura e dal danno i dipinti e le opere d'arte che fanno parte della chiesa parrocchiale. Questa è la voce di Lentiai, periodico parrocchiale appunto della comunità del paese di Lentiai. Terminiamo con il Cadore, organo informativo di cultura della magnifica comunità di Cadore. Il primo articolo è del governatore della Regione Veneto, la Zaia. Si riferisce proprio a questo mensile, scrivendo questa rivista mensile a un punto fermo nell'attività di informazione della comunità. Tra le varie cose che scrive, colgo l'occasione per ricordare un importante appuntamento culturale che rientra nei grandi eventi sostenuti dalla Regione del Veneto nel 2022, il centenario della dichiarazione a monumento nazionale della Casa Natale di Tiziano Vecelio, uno dei più grandi artisti del Cinquecento e della storia dell'arte del nostro paese, motivo di orgoglio per la comunità cadorina. E proprio più avanti, a pagina 22, troviamo proprio un piccolo inserto dedicato ai cento anni della Casa di Tiziano dichiarata monumento nazionale. Una degna di nota, anche qui, un articolo di Lucio Eichelclere sulla Biblioteca Cadorina, riferimento culturale anche per i ladini. La Biblioteca Storica Cadorina di Vigo è stata il centro dell'attenzione della provincia di Belluno per due importanti iniziative. Il primo progetto prevede la catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico storico della biblioteca per avere una maggiore fruibilità dei documenti e della loro conoscenza. Un secondo progetto è la collocazione in una stanza dell'edificio della Biblioteca Storica Cadorina, proprio dei volumi che costituiscono il patrimonio librario dell'ex istituto Ladino di Borca di Cadore, che è chiuso da un paio d'anni. Attualmente i libri sono conservati in deposito nella sede della provincia e saranno trasferiti a Vigo e diventeranno il punto di riferimento per quanti vogliono consultare i testi. Due progetti sicuramente significativi e interessanti da un punto di vista culturale. Un ultimo articolo, ma non c'è più il tempo, è della consulta ai giovani del Cadore, nel quale si pone il problema che ogni ragazzo alla fine del proprio percorso scolastico e formativo si è posto la domanda adesso cosa faccio, cerco un modo per restare in Cadore o me ne vado? Ecco, l'articolo firmato dal gruppo rappresentativo della consulta dei giovani del Cadore cerca di affrontare questo tema. Con questo abbiamo concluso anche la rassegna di questa puntata. Un saluto cordiale a tutti voi e in vista del Natale un augurio sincero di un sereno e prezioso Natale a tutti. Un saluto cordiale a tutti voi e in vista del Natale